Un hermano di luce, mi chiede di curazione per l'invitazione per permettermi di fare la parola alle nocci nella sua riunione di contatto, però voi non pensi che faccio una riunione di contatto, ma è una riunione pubblica, ma era tempo di gloria di movimento elettorale del pueblo ora che è stato organizzato su riunione pubblica, è tempo di dati Facebook, è tempo di dati Econi, è tempo di dati cellulare, è tempo di ricordare, non è tempo di essere un luogo, non è tempo di fare la parola, non è tempo di fare la parola, non è tempo di fare la riunione pubblica per informare al popolo, non è tempo di sviluppare il nostro paese.